Accelerare l'iter per la nuova Pescara lo ha ribadito ancora una volta il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci che con una lettera aperta ha voluto spiegare i motivi che lo hanno spinto a rilanciare la fusione dei tre comuni per dar luogo alla città metropolitana come sancito anche dalla legge regionale e dalla volontà del 70% dei residenti di Pescara, Spoltore e Montesilvano. Ho cercato di buttare un sasso nello stagno perché mi sembra che ci sia un po' di rilassamento rispetto ai tempi della nuova Pescara penso che sia giusto che questo termine finisca perché il referendum c'è stato nel 2014, ci sono passati già troppi anni e alla scadenza del 2024 saranno passati dieci anni. è ora di creare le condizioni affinché la nuova Pescara nasca sappiamo tutti che abbiamo avuto due anni e mezzo difficili con il Covid quindi i comuni, i sindaci si sono dovuti occupare di altro e di cose di cui non si erano mai occupati però adesso che la situazione si è attenuata dobbiamo cogliere quell'obiettivo credo che la scadenza del 2024, quella stabilita dalla legge come ultima ipotesi sia una scadenza che può essere rispettata se tutti quanti lavoriamo nella stessa direzione con convinzione, con determinazione, con voglia di fare è importante cominciare a mettere insieme dei servizi ma soprattutto è importante lavorare sulle nuove condizioni della città nel senso che per quanto riguarda i servizi che la nuova città dovrà erogare è necessario che ci sia chi studi come poterli erogare partendo da quello che c'è nei singoli comuni e per arrivare ad una sintesi che è la scelta di come sviluppare in termini di servizi la nuova realtà che nascerà e che sarà una realtà di circa 200.000 abitanti